Musica Stagione 2016 nella Rivera Romagnole, il turismo è in crescita, scopriamolo con i dati della Confesercenti Cesenate. Parliamo di turismo, come vanno i dati, che cosa dicono? Allora, presentiamo l'andagine statistica che tutti gli anni facciamo in questo periodo, interrogando un capione di 100 imprese nel nostro territorio e sommando questi che sono fondamentalmente elementi legati alla sensazione, al sentimento, quindi un po' anche alla pancia, come si chiude la stagione e che cosa si attende per il futuro a quelli che sono i dati statistici della Regione. In estrema sintesi possiamo dire che il 2016 ha tenuto in linea con il 2015, possiamo parlare, dobbiamo, si parla di un cauto ottimismo. La stagione si chiude con un tiepido più 1% o 2%, non è andata male, gli operatori sono soddisfatti, però guardano il futuro sicuramente con molta incertezza. Com'è cambiata la vacanza? La vacanza è cambiata drasticamente, questo è chiaramente un problema enorme, perché la vacanza viene decisa sempre più all'ultimo minuto, in base a quello che il mercato offre, quindi l'elemento della spesa la fa da padronare, non solo. Giustamente mi viene da dire che il turista è diventato un soggetto sempre più esigente, capace di scegliere e che quindi mette a confronto, quindi in base a quello che è il budget che ha a disposizione, scegli a funzione di quel che tu mi offri, io ho 500, 600 o 1000, quindi io scelgo in base a tutta una serie di possibilità, di servizi e di elementi che ho a disposizione. E quindi è diventato veramente molto complicato, gli operatori devono avere proprio una, se non un paio di figure, a loro interne che quotidianamente inventano proposte dove il prezzo, torna a dire, non è la variabile determinante, non è l'unica variabile, quel che ti do è l'elemento fondamentale. In pochi anni si è passate da una vacanza media di una settimana a pochi giorni, sì, la lunga vacanza ce la siamo dimenticata e questo è diventato molto complesso, proprio a livello dell'operatività, dell'organizzazione delle imprese, quindi c'è un turnover di anche, pensiamo solamente al cambio biancheria, cioè oggi come oggi quando abbiamo una vacanza le statistiche ci dicono 5 giorni, ma 5 giorni è già una vacanza lunga, il fenomeno del weekend, piuttosto che al di là del weekend all'interno della settimana è 2-3 giorni, ma aggiungo il ponte, per cui è un continuo fare e disfare. Diciamo quindi che è sempre più weekend piuttosto che la classica settimana di una volta, nonostante nella costa Cesenate ci sia più turismo per famiglie, quindi magari si sia portata a allungare un po' il periodo e fare meno toccate fuga. Sì, però la toccata fuga resta anche per la classica, la famiglia, quindi i genitori col bambino, la modalità. E poi dobbiamo tenere presente un altro elemento, che nonostante il nostro territorio sia estremamente ricco di eventi, di cultura, eccetera, noi dobbiamo sapere, siamo ben consapevoli che il nostro tratto distintivo è il mare. Quindi serve il bel tempo, quindi serve il bel tempo in più se eventualmente trovo un pomeriggio piuttosto che una mattina e mi ingegno su dove lo porto, cosa faccio, cosa aggiungo. Ma siamo schiavi assolutamente tutti del meteo, giriamo con questo telefono acceso, quindi con tutte le app dei vari meteo punto, perché assistiamo anche a ponti importanti, perché poi i ponti ci permettono di aggiungere quella giornata, quei due giorni in più, dove se le previsioni meteo danno un tempo sfavorevole c'è proprio il tracollo, cioè veramente la lista delle disdette. E dunque è giusto parlare di meteoterrorismo? Assolutamente sì, è giusto parlare di meteoterrorismo. Poi è vero che un territorio ricco come il nostro, con degli operatori in gamba, voglio dire forti, con molta fantasia, aggiungerei, sono bravi, sono capaci, torno a dire, di aggiungere, quindi dare delle alternative, però ripeto, se l'elemento fondamentale è portare giù il bambino al mare, se poi piove, io non vengo. Allora, come si può archiviare questo periodo turistico lato imprese? Sicuramente il 2016, rispetto agli anni passati, si può archiviare con una buona stagione, fondamentalmente. Oggi siamo qui per analizzare un pochettino quello che sono tutti i dati, anche perché è fondamentale analizzare i dati nel dettaglio per capire bene l'andamento, perché la stagione è fatta di 12 mesi e per alcune attività del nostro comparto è stata una buona stagione, parliamo del ricettivo, del balneare e anche in ripresa alla ristorazione, che fanno parte di quelle che sono le anime della nostra associazione. Qualcosina di meno ancora in sofferenza, purtroppo ancora il commercio è parte del settore ambulante, però nonostante questo da ritenere un'ottima stagione. Ecco, secondo i dati presentati, secondo gli imprenditori sentiti da Confesercenti, l'utile rispetto agli anni scorsi che era in diminuzione, quest'anno sembra stabile rispetto al 2015, è un segno di svolta o è ancora troppo presto per dirlo? Ma penso ancora un po' troppo presto, sicuramente a differenza degli anni passati, quest'anno ha inciso molto l'altissima stagione, abbiamo avuto una stagionalità purtroppo breve, anche a livello climatico, però si sono concentrati tantissime persone, tantissime presenti alla fine di luglio, da metà di luglio fino a tutto il mese d'agosto. Teniamo conto che il mese d'agosto ha un peso notevole sui bilanci delle nostre imprese e quindi fare molto bene il mese di agosto per le imprese e la redditività sicuramente è un buon vantaggio e questo è stato quest'anno. Quali sono invece ancora le problematiche che sussistono lato impresa? Lato impresa, noi dovremmo imparare un pochettino a fare, come si dice, rete fra di noi, dovremmo imparare un attimino a confrontarci di più, perché purtroppo quando c'è la stagionalità ancora molti imprenditori pensano a curare i propri otticelli, invece ci vuole progettualità, bisogna guardare a lungo termine, sviluppare dei progetti turistici e iniziare a credere o a pensare se il nostro modello turistico non sia un attimino da svecchiare, perché purtroppo c'è ancora un'omologazione del nostro territorio rispetto ad altri e noi lì dovremo fare delle progettualità per rilanciare qualcosa di nuovo, anche perché è un po' quello che chiedono i nostri turisti, i nostri clienti quando vengono nei nostri territori, vogliono sempre scoprire qualcosa di nuovo, su quello ci dobbiamo ancora tanto lavorare, imprese, imprenditori locali e io ci metto anche gli imprenditori superiori, le amministrazioni superiori, perché noi oramai senza regione non riusciamo più a sviluppare da soli dei progetti così importanti. Ecco, allora a proposito di novità, si parla di web, sempre più turisti si rivolgono ai siti internet per prenotare le proprie vacanze, da questo punto di vista la costa Cesenate a che punto è? Noi siamo molto avanti, forse abbiamo fatto scuola negli anni, internet purtroppo è un'arma un pochettino a doppio taglio, nelle imprese turistiche oggi penso il 90% di tutto quello che è offerte, richieste, preventive, viaggia tutto online e da un paio di anni anche sui social perché le imprese stanno sviluppando tutto un mondo marketing che anche per noi è nuovo e in fase di evoluzione. Purtroppo bisogna stare attenti perché comunque è uno strumento che se non usato bene può portare concorrenza sleale, può ingannare il turismo e il turista e quindi un attimino diciamo così, ritornare usando strumenti nuovi, ritornare a una comunicazione vera, una comunicazione di quello veramente che il turista può trovare venendo qua da noi. Sindaco Cesenatico continua ad attirare tantissimi turisti, siete soddisfatti? Diciamo che siamo abbastanza soddisfatti dell'andamento della stagione anche se giugno e luglio non sono state proprio come ce lo si aspettava, sia per questioni climatiche ma anche per altro che dovremo approfondire ed analizzare, comunque per il momento i dati sono abbastanza positivi, siamo ottimisti su quello che è stato l'andamento, è chiaro che bisogna migliorare molto e dovremo lavorare nei prossimi mesi per costruire l'offerta della stagione 2017. Tanti eventi comunque nella cittadina romagnola? Sì, abbiamo costruito una ricca offerta di eventi, sia dal punto di vista turistico e soprattutto nel mese di settembre e fine agosto abbiamo fatto una serie di eventi sportivi che hanno caratterizzato la fine della stagione, che hanno anche aiutato gli operatori per allungare un pochettino la stagione estiva, quindi ciclismo, gran fondo, triathlon, podismo, beach volley, abbiamo cercato un po' di riempire quello che era la fine dell'estate con tanti eventi sportivi che hanno apportato in città parecchi sportivi. Un po' meno stranieri? Sì, sugli stranieri sapevamo che ci potevano essere delle difficoltà che soprattutto per quanto riguarda il nostro territorio sono legate ai trasporti, noi purtroppo scontiamo questo problema sia con i treni sia con l'aeroporto di Bologna che non è ben collegato, nei prossimi mesi dovremo lavorare molto anche sul migliorare il collegamento col Marconi verso il Cesenatico, verso la stazione di Cesena eccetera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.